Bandiera all'istata a lutto e lavori sospesi anche in Regione Liguria. Il presidente del Consiglio regionale, Francesco Bruzzone, ha letto un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi. Il Consiglio regionale, si legge nel documento, condanna con fermezza quanto avvenuto. Si tenta di far ripiombare l'Europa nel terrore, ma la paura non deve avere la meglio sulla difesa dei valori di libertà, tolleranza e democrazia. E il governatore della Regione Liguria, Giovanni Totti, afferma che è l'ennesima prova dell'attacco del terrorismo al cuore della nostra civiltà, del nostro mondo, della nostra Europa. Oggi siamo tutti cittadini di Bruxelles, come lo siamo stati di Parigi. È la dimostrazione che nessuno è al sicuro e che serve una strategia comune che coinvolga tutti gli stati. Questo non è un attacco a Bruxelles, ma è un attacco a tutti noi, anche all'Italia e anche alla Liguria. Le notizie drammatiche che arrivano da Bruxelles ci colpiscono e ci lasciano sgomenti, si legge invece in una nota del gruppo PD in Consiglio regionale. Una ferma e totale condanna del terrore che ha colpito al quale l'Europa viene espressa anche dai portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria, che parlano di orrore e sgomento. Stefania Pucciarelli, consigliere regionale della Lega Nord, afferma «Siamo in guerra. Non è più tollerabile una situazione di questo tipo, dove l'Europa e i singoli stati europei sono ridotti a bersaglio inerme dell'islamismo assassino. Basta buonismi. Mi si permetta, afferma oltre al cordoglio, di dire che queste stragi sono le dirette conseguenze di una cultura liberticida, quella islamica e della politica, lassista e viglie dei governi europei». Le soluzioni, conclude Stefania Pucciarelli, devono essere oggi rapide e radicali. Chiusura totale delle frontiere e blocco navale nel Mediterraneo, chiusura immediata di tutti i centri culturali islamici ed espulsioni di massa di tutti i clandestini e dei soggetti stranieri, anche solo lontanamente pericolosi.